Ciao ragazzi e ciao ragazze, oggi vi faccio un video di un'altra nuova linea dell'Avon che è arrivata appunto da poco e sto parlando della nuova linea della Color Trend allora la Color Trend è una linea dell'Avon che diciamo rispetto alle altre è più low cost e le cose costano meno ed appunto adesso hanno fatto questa nuova linea scusate se non guardo ma sto cercando appunto nel catalogo la pagina per farvele vedere perché io ho preso soltanto 4 prodottini e invece voglio farvi vedere tutta la linea che io penso andrò a prendere la prossima campagna per completarla di più per i prodotti che mi piacciono e gli altri no allora, loro si sono ispirati ai ghiaccioli estivi appunto perché hanno quei colori pastello la linea nel catalogo la trovate così, molto carina appunto c'è scritto diamo il benvenuto alla paletteria paletteria per appunto le paletterie dei ghiacciolini e niente, vi faccio vedere i prodottini che ho preso io allora iniziamo dal primo che è questo questo è uno smaltino, come vedete anche le scatoline sono carine questo è un verde acqua qua e poi lo smaltino che ho preso io è nella colorazione grape gelato ed è questo qui questo lilla come vedete qui riporta i pua ha il solito tappetto bianco questo sono un 8 ml di prodotto ed ha una durata di 24 mesi dall'apertura ancora non li ho provati appunto ve li faccio vedere e vediamo un po' perché comunque quelle cose della Coltrend non mi sono mai trovata male devo dire molte cose sono buone e molto low cost questo smaltino nel catalogo lo trovate a 2,95€ l'uno io appunto ho preso questa colorazione ma trovate anche altre 3 colorazioni sull'azzurro, sull'arancione e sull'rosa io invece ho preso appunto quella quella grape gelato che è un lilla andiamo avanti vi faccio vedere questa questa è una la matita non retraibile le hanno messe anche in questa linea e io l'ho presa nella colorazione vanilla while come vedete lo scatolino è azzurrino con i pois e invece la matita si presenta così al contrario ok questa è la matita è eye pack fuori con lo stesso colore della matita appunto con i pois bianchi vediamo ve la swatcho vediamo è molto morbida ma nella mia carnagione non penso la vedrete perché sono molto chiara di carnagione invece su una carnagione più scura la vedreste meglio non so se si vede sinceramente questa l'ho presa perché appunto la vorrei usare o come punto luce per sotto l'alcata sopraccigliare o nell'angolo interno dell'occhio o anche come base prima dell'ombretto vi faccio vedere anche questo questa è la scatola uguale alla matita è arancione con i pois bianchi e questa è una matita nella colorazione cappuccino cornette che è un marrone ve lo swatcho è morbidissima è morbidissima è un marrone molto scuro un marrone caffè direi è molto scuro molto morbida mi piace tanto perché è anche facile da sfumare quindi io penso sia buona anche per fare un trucco occhi perché si sfuma molto facilmente quindi messa nell'angolo esterno e poi sfumata va benissimo questa nel catalogo è 2,50€ un prezzo proprio bassissimo invece la matita non retraibile è 3,95€ andiamo all'ultimo prodotto ve l'ho lasciato per ultimo ho preso questo rossettino spero si vede dalla fotocamera chi ha il sopra bianco e di sotto rosa pua bianchi molto molto carino e questo rossetto è nella colorazione pad padding allora questo è nella colorazione plum padding ve lo swatcho questa è la colorazione è un viola modulabile perché si sfuma molto facilmente quindi è buono anche per il giorno e questo è 3,50€ come vedete ci sono altre colorazioni anche del rossetto e delle matita non retraibile niente questi erano i 4 prodottini che io ho preso spero di prendere altre cose di questa linea vi mando un bacio iscrivetevi al canale mettete un like e mi raccomando attivate le notifiche per vedere tutti i miei video ciao ciao